Ciao a tutti, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e in questo video vi parlerò di che cos'è Instagram. Credo che più o meno tutti all'interno del gruppo che sta guardando questo video conoscano la piattaforma, però vorrei dare un minimo di storia della piattaforma per andare a parlare di che cos'è Instagram secondo me. Instagram è un social network adibito alla condivisione di foto e video ed è stato creato nel 2010 da Kevin Seastrom e Mike Rieger, che potete vedere in basso a sinistra nella foto insieme a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg poi ha acquisito per un miliardo di dollari nel 2012 l'azienda. All'epoca, nel 2012, quando Facebook, subito prima della sua IPO, che è l'initial public offering, cioè quando una società dà accesso alle sue azioni prima che venisse puttata in borsa, prima che andassi in IPO e quindi venisse puttata in borsa, Facebook ha acquisito Instagram per un miliardo di dollari. Ora sembra una cosa assolutamente ragionevole. All'epoca Instagram non aveva nessun tipo di revenue derivante della piattaforma e le statistiche della piattaforma erano completamente diverse da quelle che sono ora. E all'epoca Zuckerberg venne preso per pazzo una persona che gli è demanforato su Gary Vayner, perciò dicendo che effettivamente fu una steal, quindi fu un prezzo bassissimo. Quando poi Snapchat venne quotato in borsa, capirono che effettivamente un miliardo per Instagram fosse effettivamente molto poco. Una cosa simpatica è che il nome Instagram deriva dall'unione di Instant Camera e Telegram, che era bene o male l'idea che Mike Sistrom, Kevin Sistrom e Mike Krieger avevano per questa app, ovvero la possibilità semplicemente di catturare un momento e inviarlo e condividerlo con tutti gli amici istantaneamente. Come è nato Instagram? Parliamo della fondazione effettiva della piattaforma, della creazione effettiva della piattaforma, del processo che ha spinto Kevin Sistrom a realizzarla. Innanzitutto Kevin non sapeva programmare, ha imparato a programmare di notte dopo il lavoro e quando ha imparato l'HTML 5 ha creato una versione di Instagram, un po' una versione primitiva di Instagram, che era molto più simile a Foursquare e si chiamava Bourbon. Bourbon anche il nome deriva dal fatto che fosse un amante del whisky e del bourbon. Ha testato questa piattaforma, ha fatto testare questa piattaforma a degli amici, ha avuto un ottimo feedback e una sera durante una festa ha incontrato gli investitori, classica situazione della Silicon Valley o della Bay Area, e ha spiegato a questi finanziatori l'idea per la sua app. Ha deciso dopo questa serata di licenziarsi dal suo lavoro e con l'investimento che ha ricevuto da questi investitori di 500.000 dollari ha cominciato a programmare l'app più specificatamente. Ha trovato il co-founder, che è Mike Rieger, e hanno cominciato ad analizzare l'app e a costruirla in maniera più sistematica. Dopo aver fatto un prototipo di quest'app, che voleva avere un sacco di feature, dal check-in per i luoghi, le foto, video, messaggistica, profili, e quant'altro, decisero che era il momento di togliere tutte le cose che non fossero essenziali, concentrarsi solo ed esclusivamente sulle foto, e sull'abilità di mettere like alle foto e di commentare alle foto che gli altri avevano condiviso. L'hanno chiamata Instagram, quindi come dicevo prima, per il fatto di poter condividere queste foto in maniera istantanea con un sacco di persone, e dopo sole otto settimane di development hanno lanciato l'app. Dopo poche ore dal lancio dell'app era l'app numero uno nella classifica iOS per quanto riguarda la fotografia. Dall'epoca ad oggi le cose sono cambiate molto, non è semplicemente l'app numero uno quando si parla di social network, di video e fotografia, ma ben il 32% degli utenti internet, cioè il 32% delle persone che hanno accesso ad internet, utilizza Instagram. Utilizza Instagram talmente tanto che Instagram ha raggiunto un miliardo di utenti attivi al mese, di questo miliardo di persone attive in un mese, oltre 400 milioni utilizzano quotidianamente le storie. Il 63% degli adolescenti americani le utilizza quotidianamente, e statistica della quale sono abbastanza colpito, ci credo ma dovrei vedere bene il dato dal quale questa statistica è stata estrapolata, dicono che il 72% degli utenti intervistati hanno detto che hanno acquistato un prodotto dopo averlo visto su Instagram, non direttamente dalla piattaforma all'acquisto, ma hanno visto il prodotto da amici, da pagine che seguono, da influencer, e hanno deciso successivamente che l'avrebbero acquistato. Potete subito capire come Instagram sia una storia di forte dedizione e di hustle, se vogliamo definirlo, quindi di questa attitudine verso la startup live, verso la creazione di nuove idee, l'attuazione di nuove idee che da parte di Kevin e di Mike. Ma oltre a questo possiamo capire come effettivamente, ora come ora, Instagram è una piattaforma che ha un fortissimo valore per qualsiasi tipo di business, qualsiasi tipo di attività e qualsiasi persona. Tante persone hanno obiettato, durante la mia carriera ho trovato molte persone che dubitavano del fatto che la loro target audience fosse effettivamente su Instagram. Però, ragionandoci un attimo, se prendiamo un miliardo di persone o 400 milioni di persone in un gruppo, qualsiasi di 400 milioni di persone, troveremo sicuramente persone interessate a più o meno qualsiasi argomento, qualsiasi prodotto. Quindi, se ragioniamo su questo, non è la questione se la piattaforma ha gli utenti, ha la target audience che voi state cercando, ma la vera domanda è se siete in grado di raggiungere le persone che vi interessano veramente all'interno di questa piattaforma. Perché Instagram è importante? Allora, comincerei da queste due foto. Queste due foto sono le due foto con il maggior numero di like, una 13 milioni e una 138 milioni, da parte di Kylie Jenner. Queste sono le due foto con il maggior numero di like su Instagram nella storia, ed entrambe appartengono a Kylie Jenner. Kylie Jenner è stata indicata come una della più giovane self-made billionaire secondo Fortune, se non erro, o Forbes, non ricordo esattamente quale delle due riviste. E a parte la mia opinione personale su questo fatto, perché non credo che Kylie Jenner possa essere considerata completamente self-made, la cosa che è molto molto importante da capire è che lei ha basato l'impero o comunque della sua compagnia che vende make-up tramite l'utilizzo di influencer marketing con l'influencer più prominente lei stessa, è riuscita a generare quasi un miliardo di revenue. Questo perché tramite Instagram è molto facile catturare l'attenzione delle persone, è molto facile attirare l'attenzione degli utenti uno, perché attraverso di metodi ben definiti di quali andremo a parlare più avanti durante questo corso riguardante l'Instagram è possibile posizionarsi abbastanza bene nell'explore page nell'explore page per la target audience che state cercando di raggiungere ed inoltre è possibile sfruttare dei contenuti non necessariamente originali per comunque raggiungere il maggior numero di utenti possibili e avere una copertura molto elevata ad un costo veramente basso e quindi dal punto di vista dell'advertising e del marketing questa piattaforma ci permette di avere un CPM veramente basso cioè il costo per mille impression veramente basso e per alcuni brand o alcuni grandi brand o comunque aziende che sono in grado di sfruttare questo tipo di dato è una cosa molto positiva seconda cosa Instagram ha un forte potere di storytelling ovvero sia ha il potere di raccontare delle storie tramite l'utilizzo di immagini e più calzanti più coinvolgenti sono queste storie più utenti la seguiranno più utenti riusciranno effettivamente a seguire lo sviluppo della storia e non intendo l'Instagram ma intendo proprio una vera storia c'è quindi uno storytelling ben fatto attraverso questa specie di fotoblog che è effettivamente un profilo Instagram la cosa importante dello storytelling è che Instagram lo premia perché se siamo in grado di catturare l'attenzione dei nostri followers o di qualsiasi utente Instagram e di coinvolgerli con il nostro storytelling a quel punto là aumentiamo il tempo di permanenza di ogni utente la cosiddetta retention che abbiamo introdotto nella sezione del growth hacking siamo in grado di mantenere la retention dei followers sul nostro profilo e di conseguenza aumentare il tempo che loro stanno nella piattaforma Instagram vede questo dato e cerca di premiarvi in quanto voi aiutate la piattaforma ad aumentare la retention degli utenti e di conseguenza più un utente sta sulla piattaforma più probabilità ha di vedere un ad e quindi più probabilità a Facebook di monetizzare altro aspetto chiave è la potenza che ha Instagram nel amplificare le campagne di marketing ci sono state campagne tra la più famosa è la campagna del costume rosso la che io adesso non ricordo esattamente l'home del brand ma c'è stato un giveaway virale l'altro anno nel quale hanno pubblicato una foto che è stata creata studiando altri contenuti utilizzando il metodo virale che anche di questo parleremo più avanti questa foto è andata virale e prometteva a chiunque commentasse e condividesse la foto seguisse l'account di inviare un costume gratuito il tutto è sfuggito un po' di mano hanno avuto una cosa come 4 milioni di adesioni ovviamente non sono riusciti poi a spedire i costumi ma questo significa che anche se non sono riusciti a farlo perché poi non si aspettavano questo tipo di response questo ci dimostra che è effettivamente possibile farlo ci sono state dei giveaway e delle campagne molto forti su Instagram che hanno prodotto dei risultati assurdi l'utilizzo dell'influencer marketing che è un tipo di marketing nato negli ultimi anni che può utilizzare influencer su YouTube Snapchat Facebook Tumblr Reddit Instagram e qualsiasi altra piattaforma social l'utilizzo dell'influencer marketing su Instagram dà la possibilità non solo di ampliare la copertura e la reach delle nostre campagne di marketing ma anche di ricevere dei contenuti ad un'altissima qualità che sono nativi con la piattaforma e possono essere riutilizzati nelle nostre campagne di marketing in maniera molto efficace ed inoltre questi contenuti possono essere riformattati per essere utilizzati tramite Facebook Ads con placement Instagram per andare a raggiungere e coinvolgere il maggior numero di persone possibili abbassando il costo per post engagement comunicazione comunicazione è l'ultima parte che ho aggiunto perché non molti analizzano questo aspetto di Instagram ovvero sia che Instagram è una piattaforma che riesce a comunicare senza le barriere di linguaggio pensateci un attimo Facebook e Twitter per esempio sono delle piattaforme che si focalizzano sui commenti quindi sono piattaforme che effettivamente hanno una barriera linguistica in quanto i commenti e i temi trattati sono rilevanti solo ed esclusivamente nella lingua nei quali si vanno a trattare e di conseguenza un influencer molto prominente per esempio su Facebook in America non avrà la stessa rilevanza in Italia o non avrà la stessa rilevanza in Europa perché ci sono effettive barriere di linguaggio e non riuscirà mai a raggiungere una totale audience che l'audience totale massima perché potrà raggiungere efficacemente solo quel tipo di audience che effettivamente capisce il suo messaggio su Instagram la cosa è levemente diversa perché non ci basiamo tanto sulle caption che facciano sulla bio che sono importanti però non sono la cosa numero uno riguardante Instagram infatti Instagram è una piattaforma visiva Instagram è una piattaforma sulla quale si condividono immagini e video e le immagini e i video possono trasmettere un sentimento diverso ma non creano nessuna barriera derivante dalla lingua parlata in quanto sono effettivamente immagini in quanto sono effettivamente video in quanto le scritte all'interno o i racconti all'interno non nelle caption per esempio non sono il fattore chiave per passare un messaggio o un'emozione alla persona che sta consumando il contenuto e di conseguenza teniamo conto di questo fatto perché sarà una cosa molto importante da capire da sfruttare da ora in avanti non pensiamo che Instagram sia arrivato a un miliardo di utenti a 400 milioni le storie e quant'altro non è arrivato cioè Instagram non è ancora soprattutto in Italia per esempio non è ancora stato non viene ancora utilizzato nella miglior maniera viene ancora utilizzato come una piattaforma basata sulle vanity metrics e semplicemente sull'apparire effettivamente dal tipo di comunicazione che uno può intraprendere su Instagram e dal tipo di algoritmo che Instagram utilizza non conta ormai tanto l'apparire in termini di numeri però conta l'essere in termini di contenuti comprendere Instagram benissimo allora prima di tutto cominciamo dalla parte destra di questo slide dove vedete un grandissimo cerchio che definisce utenti e poi ci sono tre categorie queste tre categorie le ho definite per questa presentazione per creare un po' di chiarezza riguardante Instagram queste tre categorie sono i brands gli influencer e le communities i brands ovviamente sono tutti quei marchi che stanno facendo promozione a livello di content marketing o di advertising direttamente su Instagram possono essere brand come Nike Tiffany Adidas Supreme Babe e quant'altro le communities sono dei profili nei quali si crea appunto una community generalmente incentrati attorno a un argomento specifico non hanno necessariamente contenuti originali e possono molte volte andare a ripostare dei contenuti che sono inerenti all'argomento trattato dalla community e di conseguenza utilizzare il viral method per aumentare la reach per aumentare la crescita di follower e l'engagement dei profili gli influencer sono gli influencer una cosa che mi sta molto a cuore dire è che molte volte le persone pensano che un influencer sia per forza una Chiara Ferragni un Cristiano Ronaldo o una Kylie Jenner o comunque questo tipo di profili in realtà la definizione non è non è proprio calzante in questa maniera perché un influencer è qualsiasi persona che riesce tramite il suo comportamento i suoi contenuti o il suo messaggio a influenzare delle persone a fare una determinata azione è chiaro che se noi andiamo ad analizzare una nicchia per esempio la nicchia di collezionisti di Franco Bolli il maggior influencer che ci sarà in questa nicchia di collezionisti di Franco Bolli non avrà mai la reach la rilevanza che ha un profilo come Cristiano Ronaldo ma ciò non significa che non sia un influencer che non debba essere considerato un influencer in quanto se noi prendiamo nella nostra nicchia di riferimento e andiamo a vedere ci sono alcune nicchie in cui l'influencer più grande o l'influencer migliore potrebbe avere 2000 followers come potrebbe averne 14000 quindi non basiamoci solo ed esclusivamente sul numero di followers che una persona ha per valutare se questa persona è un influencer o meno bisogna un po' contestualizzare il profilo e capire cosa stiamo effettivamente analizzando detto questo che ovviamente è un po' una descrizione delle tipologie di profilo che ci sono che poi andremo un po' a vedere più a fondo in una prossima slide cerchiamo di capire cosa sono gli hashtag gli hashtag sono uno strumento che utilizza instagram per poter categorizzare e trovare i contenuti gli hashtag sono il famoso cancelletto seguito in una parola che è stato introdotto all'inizio con non saprei dire le piattaforme prima che hanno usato gli hashtag però la piattaforma con poi gli resi famosi è stata twitter perché all'interno di twitter si utilizzavano gli hashtag per categorizzare i twitter all'interno di un determinato argomento e fare sì che tutti potessero partecipare alla discussione inserendo in quel tweet l'hashtag bene o male funziona la stessa maniera con instagram ma ci sono delle specifiche tecniche un po' più complesse da analizzare per capire come utilizzare questi hashtag al meglio l'algoritmo instagram ha ovviamente un algoritmo è un algoritmo di distribuzione che in base al tipo di azioni che determinati utenti fanno va a capire che tipo di contenuti possono essere interessanti e popolare l'explore page e la home page e la story section di tutti i nostri profili parleremo chiaramente anche di questo durante questo video ma un altro il quarto argomento diciamo per comprendere instagram appieno è la categorizzazione del profilo la categorizzazione del profilo instagram è l'aspetto chiave da comprendere per avere successo su instagram e soprattutto per crescere la categorizzazione significa che quando tu crei un account dopo che hai dopo aver fatto determinate azioni instagram categorizza il tuo account in una certa maniera quindi categorizza il tuo account come un fitness influencer e tu vedrai i contenuti i tuoi contenuti avranno distribuiti a persone che seguono che interagiscono con fitness influencer se tu guardi solo contenuti relativi alle moto vedrai solo contenuti relativi alle moto e i contenuti che tu posti potranno essere scoperti più facilmente da persone che hanno interesse verso i contenuti relativi alle moto è un po' molto simile c'è un po' la stessa cosa che fa l'algoritmo di youtube solo che l'algoritmo di youtube va un po' più a fondo infatti fa cambiare molto spesso anche l'argomento in base al dato storico perché siccome sa che tipo di argomenti ci interessano instagram un po' meno se l'account è categorizzato bene meglio un account è categorizzato più facile sarà crescere e aumentare il livello di engagement andando a parlare di hashtag cominciamo dal perché utilizzarli come ho nominato prima c'è una cosa che si chiama categorizzazione all'interno di instagram e abbiamo l'algoritmo gli hashtag vanno a categorizzare il vostro account all'interno di una nicchia in base di hashtag chiaramente che utilizzate quindi gli hashtag vanno utilizzati per far sì che il vostro account venga categorizzato all'interno di una specifica nicchia di conseguenza la vostra explore page vi faccio vedere i contenuti relativi ai vostri ma anche fa in maniera che l'algoritmo distribuisca i vostri contenuti alle persone che più interagiscono con gli hashtag che voi state utilizzando e che in qualche maniera hanno un contatto diretto con voi o con il tipo di contenuti che state utilizzando come utilizzare gli hashtag questa è una domanda che richiederà un approfondimento e che chiaramente andremo ad approfondire più avanti con una live e con un po' di interventi riguardanti questo argomento però innanzitutto l'utilizzo di un hashtag prima di poterlo utilizzare correttamente va capito cos'è come ho detto prima l'hashtag serve a categorizzare e l'hashtag serve a far distribuire i vostri contenuti all'audience più rilevante gli hashtag per esempio like for like follow for follow tutti questi hashtag non ben categorizzati non ben relative vedo una nicchia specifica non vi aiutano la credenza che gli hashtag portano like e followers in realtà è scorretta noi lo dicevamo un po' prima che uscissero anche gli insight che sono andati a dimostrare quello che noi sostenevamo perché effettivamente il numero di impressions derivanti dagli hashtag è relativamente bassa seconda cosa gli hashtag non vi portano non sono fatti per i like semplicemente perché la top 9 o comunque la pagina hashtag ora come ora non è più identica per tutti quanti ma dipende appunto dalla categorizzazione dell'account e dall'algoritmo di Instagram di conseguenza la maniera nella quale voi dovete utilizzare gli hashtag deve prendere in considerazione il tipo di contenuto che state postando il tipo di profilo e la nicchia che volete dare al vostro profilo sulle nicchia nella quale volete operare ed infine la grandezza la grandezza degli hashtag non relativa al numero di post che questi hashtag hanno ma relativa al numero di like che la sezione top dell'hashtag che voi state analizzando ha di conseguenza utilizzare l'hashtag luxury se avete un profilo da 400 like 400 followers e 20 like non vi aiuta in nessuna maniera a ricevere like vi aiuta a categorizzare però effettivamente possiamo fare a ottenere la categorizzazione nella nicchia luxury andando ad utilizzare un hashtag sempre molto relativo alla nicchia luxury che ha semplicemente un livello un numero di post generalmente più basso e un livello di engagement più basso nei post all'interno della top della top page questo vi permette potenzialmente di aumentare la viralità del vostro post grazie alla distribuzione di questo post nella categorizzazione giusta nella nicchia giusta e effettivamente avere risultati più consistenti altra cosa l'hashtag luxury può essere utilizzato da tante tante persone che non necessariamente sono nella nicchia luxury però se noi andiamo a prendere un hashtag che è un po' più lungo che ha più parole e keyword specifici riguardanti quella nicchia molto probabilmente quell'hashtag viene utilizzato solo ed esclusivamente da persone interessate in quella nicchia e di conseguenza utilizzarlo vi da una categorizzazione più specifica all'interno della sottonicchia ricerca hashtag come fare una ricerca di hashtag io consiglio sempre io consiglio sempre di fare la ricerca hashtag da desktop modalità privato in maniera tale che non ci sia nessun account collegato e non avete dei cookies che possono dire ad Instagram effettivamente la vostra preferenza e andare a fare un'analisi scrivendo sulla barra di ricerca da desktop se voi mettete un hashtag poi scrivete una parola vedete che la barra di ricerca comincia a popolarvi un gruppo di hashtag relativi a quella parola e anche il numero di post in quella maniera là se voi andate ad aprire i primi 20 i primi 30 i primi 50 vedete innanzitutto che post ci sono tra i top post tra i post più popolari andate ad analizzare gli hashtag che hanno i post più simili a quello che voi andrete a pubblicare una volta selezionati quelli tra quelli prendete gli hashtag che hanno un livello di engagement all'interno delle foto categorizzate in quell'hashtag più simile e più vicino al vostro livello di engagement medio questa è la maniera per fare una ricerca di hashtag efficiente efficace e veloce hashtag proibiti forse non tutti sanno che ci sono degli hashtag che non è permesso utilizzare cioè non è permesso significa semplicemente che se voi andate ad utilizzare quegli hashtag potete essere penalizzati dall'algoritmo di instagram il vostro post può essere rimosso il vostro profilo il vostro profilo può effettivamente risentirne gli hashtag proibiti potete trovare una lista non l'ho inserita qui perché effettivamente basta scrivere su google lista hashtag proibiti e trovate una lista effettiva di tutti gli hashtag da non utilizzare e questi hashtag assolutamente non vanno utilizzati andiamo ora a parlare di un argomento un po' un po' particolare che è l'argomento shadowban un po' particolare perché poco tempo fa instagram ha rilasciato una dichiarazione un po' un po' strana nel quale ha detto che effettivamente lo shadowban non esiste mi trovo di sentire mi trovo di sentire con la piattaforma anche perché non credo sia stata non credo abbiano voluto effettivamente programmare questo tipo di questo tipo di ban ma da qualche parte all'interno del codice all'interno dell'algoritmo è successo e sono sicuro che esista o che è esistito in precedenza perché l'ho effettivamente visto ho avuto dei clienti di cui siamo andati ad analizzare i loro comportamenti e vuoi per eccessive automazioni vuoi per utilizzo di hashtag prebiti vuoi per un follow on follow troppo forte vuoi per determinate cose piuttosto che altre quando loro pubblicavano un post dai profili non collegati al loro profilo quindi dai profili dei non followers non si riuscivano a trovare i post all'interno dell'hashtag ci sono varie teorie sul motivo per il quale questo accade io sono più sulla filosofia o la credenzione senza che il goodness score di instagram sia un parametro effettivo e reale andremo a parlarne più avanti però giusto per introdurla è un parametro che va ad indicare è un punteggio che va ad indicare da noi non accessibile da nessuno accessibile al momento che va ad indicare la salute e la performance di un profilo ci sono determinate pratiche che vanno ad abbassare questo goodness score e a un certo punto arrivando sotto una determinata soglia parte appunto a questo shadow ban altra teoria riguardante lo shadow ban è che l'UMOS che è l'algoritmo scusa l'intelligenza artificiale che instagram utilizza va ad assegnare va a riconoscere il tipo di immagine che si va ad utilizzare riconoscendo le immagini che si va ad utilizzare se l'immagine non è congruente con gli hashtag utilizzati per quel post l'intelligenza artificiale non è in grado di categorizzare correttamente quel tipo di contenuto e di conseguenza va a rimuoverlo queste sono due due teorie chiaramente non c'è nessuna conferma o smentita ufficiale da parte di instagram però quando ho avuto dei clienti in shadow ban o delle persone conoscenti persone che aiutavo in shadow ban dopo tanti test perché è successo più di una volta siamo riusciti a trovare più o meno una soluzione la soluzione è fermare i power likes dei post aumentare il numero di gruppi di m dell'engagement effettivamente manuale che in ogni post che in ogni post che utilizzate arriva nei primi 30 minuti e andare ad analizzare la copertura che ogni post ha pubblicate una volta la volta al giorno però cioè pubblicate una volta dopo almeno 4 ore pubblicate un'altra volta e valutate se la copertura del secondo post è più alta del primo se così non fosse non pubblicate più e riprovate il giorno successivo quando la copertura del secondo post sarà più alta della copertura del primo potete andare a postare tre volte penso che molte persone adesso potrebbero dire oddio una due tre volte al giorno sì l'approccio che ho io su Instagram ti porta a postare almeno almeno una volta al giorno due sarebbe il meglio tre sarebbe l'ideale in ogni caso andando avanti con questa pratica aumentando bloccando le automazioni bloccando i power likes aumentando il tipo di engagement i commenti like manuali quindi da DM group che vi arrivano sul post e andando a postare meno senza l'utilizzo di nessun hashtag scusate quando postate in shadowman non utilizzate nessun hashtag quando il secondo post ha una copertura superiore al primo andiamo avanti col terzo e avanti così dopo un certo periodo tutto ciò semplicemente passa dopo quattordici giorni tutto ciò passa sempre anche non facendo nulla ci sono state alcune persone che hanno trovato anche una soluzione allo shadowband disattivando l'account per un tre giorni e poi riattivandolo cambiando leggermente la bio e cambiando alcuni parametri dell'account tutto ciò è solo un'infarinatura riguardante questo potremo approfondirlo quando volete sentitevi liberi di commentare sotto questo video se ci sono domande più specifiche fate direttamente un post sul gruppo e cercherò di aiutarvi cercheremo di aiutarvi nella miglior maniera possibile ultima cosa è l'hashtag personale o almeno sì le credenze riguardanti l'hashtag personale prima cosa nessuno può possedere un hashtag cioè l'hashtag non ha un proprietario tutti possono utilizzarlo e l'hashtag ha la funzione di prendere una foto metterla insieme ad un altro gruppo di foto in maniera tale che se qualcuno fa una ricerca per hashtag vede tutte le foto che sono state pubblicate con quell'hashtag ed è una cosa più facile è un tool per trovare più facilmente le foto o i contenuti da parte degli utenti e per l'algoritmo e l'instagram categorizzare più facilmente gli utenti in determinate nicchie consiglio però sempre comunque di utilizzare l'hashtag personale anche perché se innanzitutto potete inserirlo a livello del profilo quindi potete mettere l'hashtag personale all'interno della vostra bio e le persone possono essere indirizzate direttamente al tipo di contenuti seconda cosa un utilizzo diverso io farei dell'hashtag personale è un hashtag che non va su tutti i contenuti perché altrimenti andando a vedere l'hashtag semplicemente vedete la vostra feed quello che io andrei a fare è creare degli hashtag personali multipli nei quali uno cliccando sull'hashtag andando effettivamente a controllare i vostri contenuti vede delle cosiddette collections vede diverse vede diversi tipi di contenuti vede diverse foto che chiaramente devono avere un motivo per il quale sono diverse e sono relative all'hashtag personale che avete utilizzato in ogni caso l'hashtag personale può aiutare l'hashtag personale è una cosa che va utilizzata a seconda del tipo di profilo perché un brand è giusto che lo utilizzi e lo usa più per motivo di promozione un influencer può utilizzare il suo hashtag personale e spingere persone a farlo in maniera tale che anche loro vengano categorizzate all'interno di quella e di quell'hashtag più consolidati a livello di utenti un piccolo piccolo influencer in realtà una persona che sta cominciando l'hashtag personale è una cosa sulla quale non mi focalizzerei e mi preoccuperei più che altro di strategie di crescita e di engagement continuiamo parlando di algoritmo parliamo di come l'algoritmo va a distribuire i vostri post questa è un'analisi empirica che noi abbiamo fatto dopo aver analizzato cresciuto gestito e sperimentato su centinaia di profili l'algoritmo di distribuzione di instagram funziona in una maniera abbastanza chiara quando una persona va ad interagire con un vostro post quel post finisce nell'explore page dei followers della persona che vi ha interagito che sono categorizzati nella maniera più simile a voi quindi quando io posto una foto ed è una foto relativa al calcio un mio follower interagisce con la foto quella foto finisce nell'explore page dei suoi followers più attivi che sono categorizzati all'interno della nicchia calcio questa è la maniera più semplice e veloce che ho per spiegare come funziona la distribuzione a livello dell'algoritmo di instagram potete non essere d'accordo ci possono essere diverse linee di pensiero ma vi assicuro che se provate un attimo a ragionare e creare strategie basandosi su questo conciatto vedrete che effettivamente è così questo è il motivo per il quale per esempio i power likes vengono utilizzati perché ci sono tanti like in un breve periodo di tempo che dice l'algoritmo che il contenuto è potenzialmente virale e distribuisce quel tipo di contenuto ai followers più attivi degli account che vi stanno mandando i power likes teniamo conto che chiaramente se gli account che mandano i power likes mettono like a 400 milioni di foto al giorno quello chiaramente non aiuta a livello di distribuzione del vostro algoritmo in quel caso vengono utilizzati solo ed esclusivamente per social proof cosa invece molto interessante è che se invece andiamo a creare dei gruppi DM e non è facile crearli andremo a parlarne e analizzeremo più a fondo la questione ma se andiamo a creare dei gruppi DM con persone che vi interagiscono manualmente almeno un paio di volte al giorno tra persone che si seguono tra di loro tutte nella stessa nicchia e ne diciamo ne creiamo un 4, 5, 6, 7 in maniera tale da avere una quarantina di like una settantina di like una quarantina di commenti derivanti da questi gruppi DM in quel caso vedrete che la distribuzione di vostri contenuti sarà amplificata di tanto sarà veramente amplificata se state facendo una community che riposta solo contenuti virali questo è il metodo più veloce per arrivare a 10.000 followers ora come ora è un po' cambiata la situazione ma i 10.000 followers in due mesi sono tranquillamente raggiungibili utilizzando questi metodi utilizzando il viral method e essendo consci di come funziona la distribuzione a livello di algoritmo di Instagram a livello di algoritmo c'è questa cosa chiamata goodness score che se andate a ricercarlo su Google troverete un articolo di Medium direttamente dal team di developer di Instagram che spiega che cos'è il goodness score io darò una spiegazione cosa abbastanza simpatica che noi nella compagnia nella quale ancora lavoro nella compagnia di cui sono uno dei fondatori che è Avenik avevamo fatto un corso tempo fa e dovevamo trovare il termine per definire quello che noi dicevamo il punteggio di Instagram noi l'abbiamo chiamato goodness score quando il corso è poi uscito una persona ha detto guardate ragazzi avete copiato il termine in realtà non lo sapevamo però sono abbastanza contento che abbiamo avuto la stessa nomenclatura del team di developers in ogni caso questo goodness score va ad indicare quanto sano quanto quanto sano è il vostro account Instagram le cose che vanno ad influenzare il goodness score sono il numero di IP che accede al vostro account la location degli IP che accede al vostro account la presenza o meno di un link nella vostra bio e in questo caso i link che generalmente vanno a danneggiare il goodness score sono i link derivanti da Bitly in quanto Bitly fa un redirect immediato ed è una cosa che lo spider crawler di Instagram non gradisce l'utilizzo di hashtag bannati l'utilizzo di follow on follow veramente molto veloce l'utilizzo di automazioni con IP diverso da quelle che dall'IP generico che utilizzate mentre vi siete connessi l'aggiunta di altri utenti all'interno dell'account e tutto questo tipo di cose va a danneggiare effettivamente il vostro goodness score e va a diminuire la facilità con la quale andrete virali se volete fare un test aprite semplicemente due account nello stesso giorno in un account fate tutto quello che è possibile fare in un altro account lo crescete organicamente guardate dopo 30 giorni quante persone effettivamente interagiscono con i vostri post qual è la copertura e qual è la ricce nelle stories quando l'avrete fatto vedrete che effettivamente il goodness score è una cosa che esiste che può essere danneggiato da alcune pratiche che tante volte vengono considerate pratiche lecite e pratiche salutari per il vostro account la categorizzazione allora la categorizzazione secondo me è l'argomento più importante per capire che cos'è e come funziona Instagram la categorizzazione di Instagram si basa principalmente su quattro cose le interazioni il comportamento i contenuti e l'hashtag ho dovuto differenziare interazioni e chiaramente la più importante sono le interazioni quindi per quello vedete anche evidenziata ho dovuto differenziare interazioni e comportamento per far capire esattamente come funziona la categorizzazione allora la categorizzazione di Instagram è una parte diciamo è una sezione dell'algoritmo che va ad analizzare i vostri che va ad analizzare chi seguite chi vi segue a chi mettete like chi vi mette like chi commentate chi vi commenta con chi mandate messaggi che tipo di azioni intraprendete su Facebook su Facebook se avete gli account collegati e poi a livello di comportamento vedere quanto vi fermate su un tipo di profilo quanto scrollate all'interno di un profilo quindi non necessariamente interagendo con il profilo ma anche semplicemente guardandolo fermando lo scroll ad una determinata immagine va ad analizzare il tipo di contenuti con i quali voi interagite di più e il tipo di contenuti che postate va ad analizzare il tipo di hashtag che voi andate ad analizzare il tipo di hashtag che vengono utilizzati nelle foto con le quali voi andate ad interagire con le quali che effettivamente guardate e va ad analizzare il tipo di hashtag che voi utilizzate mettendo insieme tutto questo tipo di comportamenti Instagram vi posiziona in una determinata nicchia se voi volete essere nella nicchia fitness e postate contenuti relativi al fitness ma interagite solo e esclusivamente con account cartoon per dire la vostra categorizzazione sarà strana una categorizzazione tra cartoon e fitness quindi la vostra explore page sarà abbastanza promiscua e quello non vi aiuta neanche a livello di distribuzione contenuti un account che ha una categorizzazione buona nella sezione you dell'explore page vedrà solo contenuti simili ai contenuti che lui posta e contenuti che sono solo ed esclusivamente all'interno della nicchia nella quale si è voluto posizionare comprendere che la categorizzazione di Instagram è fondamentale è la chiave effettivamente per crescere cosa abbastanza simpatica c'è una persona all'interno del gruppo che aveva un account fitness dove tutto era fitness tranne le foto quindi gli hashtag erano pseudo fitness le interazioni erano con account fitness tutto era fitness tranne le foto è un gruppo di engagement le foto erano molto più simili delle foto della nicchia food anche perché dobbiamo pensare che c'è un'intelligenza artificiale che prende la foto e l'analizza quindi analizzando la foto si vedeva sempre cibo e di conseguenza la categorizzazione di quella foto è food e il gruppo di engagement che lui utilizzava che era l'unico organico grosso era tutto un gruppo di food blogger bene quell'account nonostante tutto il resto fosse nella nicchia fitness quell'account era categorizzato food quindi condividendo un contenuto di cibo il contenuto aveva un engagement e una reach buona condividendo un contenuto relativo al fitness aveva un engagement e una reach decisamente scarsa questo come sempre potete andare a provarlo direttamente aprendo nuovi account o cercando di cambiare il tipo di categorizzazione che avete e vedere se effettivamente funziona un esperimento da fare è prendere il vostro profilo e interagire per 48 ore solo ed esclusivamente con account super targettizzati nella nicchia nella quale volete volete operare vedrete che dopo 48 ore la vostra explorer page cambia e comincerà ad essere solo ed esclusivamente popolata da quel tipo di contenuti l'explorer page in realtà cambia anche dopo poche interazioni io sto dicendo proprio se qualcuno vuole fare una cosa drastica quindi 48 ore engagement solo con un tipo di contenuti e poi vedrete effettivamente il cambiamento a livello di categorizzazione del vostro profilo la categorizzazione non è una cosa che rimane fisso è una cosa abbastanza fluida quindi non basta categorizzarsi in una nicchia e poi si può fare quello che si vuole in realtà è una cosa che bisogna continuare a fare quindi continuare ad essere attenti al tipo di profili con i quali si vanno ad interagire a livello di profilo personale è chiaro che un profilo personale avrà una categorizzazione un po' strana in quanto la categorizzazione per un utente è una cosa particolare cioè quindi l'utente che non è un influencer non è un brand non è una community la categorizzazione per lui non è importante in quanto il punto non è farsi scoprire ma il punto è scoprire persone quindi più tipo di più si ampia più si ingrandisce la gamma di profili con i quali effettivamente va ad interagire più vedrà contenuti che lui effettivamente piacciono il brand per un brand effettivamente è importante utilizzare un tipo di categorizzazione all'interno della sua nicchia che però può essere abbastanza a seconda di quanto consolidato il brand può essere anche abbastanza ampia per una community la categorizzazione è fondamentale quindi se vogliamo creare una community in una nicchia specifica quel account e quella community devono essere categorizzate solo e definitivamente in quella nicchia per l'influencer la categorizzazione è una cosa un po' fluida in quanto uno a seconda della stagione due a seconda del tipo di profilo tre a seconda del tipo di contenuti che possono produrre devono seguire determinati schemi per appunto la categorizzazione dell'account e quello andremo a vederlo più a fondo sulla nostra personal strategy per crescere degli account personali che sarà la fine di questo corso tipologie di profili ho dato un'infarinatura poco fa riguardando le tipologie di profili però cerchiamo di andare un po' più a fondo anche per capire bene cosa possiamo fare con i profili instagram e come vanno effettivamente utilizzati la tipologia di profilo chiaramente più comune è la tipologia di utente l'utente è una persona che generalmente ha un rapporto followers fratto following molto basso è molto spesso inferiore a zero quindi ha più follow cioè segue più persone di quante lo seguono l'utente medio ha un profilo privato e l'utente medio posta poco a livello di promozione l'utente medio non è utile però chiaramente l'utente medio è l'utente che poi può andare ad acquistare un nostro prodotto un nostro servizio o aderire ad una nostra promozione le communities sono un aggregatore di contenuti in una nicchia ben specifica generalmente vengono utilizzate vengono cresciute utilizzando il viral method cioè andando ad individuare in una nicchia specifica i contenuti che hanno la più alta probabilità di andare virali e ripostando quei tipi di contenuti all'interno della community le community utilizzano spesso anche i metodi di growth hacking dei contenuti e di engagement baiting quindi cercano di farsi dare engagement ai follower in maniera un po' un tipo con dei giveaway tipo commenta per uno free shout e quant'altro con delle strategie un po' di engagement baiting e queste communities hanno come la cosa più importante per le communities è l'utilizzo quindi di contenuti virali e la categorizzazione del profilo rendiamoci conto che Instagram differenzia effettivamente i profili tra utenti brands influencer e communities e lo noterete cioè ha innanzitutto una cosa abbastanza ragionevole visto il tipo di piattaforma che è seconda cosa si nota da come la distribuzione effettivamente avviene le communities ben consolidate vedrete che appaiono in explore page molto facilmente hanno un ottimo ottimi livelli di reach ottimi livelli di copertura e generalmente una buona crescita però a livello di engagement e di potere di influenza quindi di influencing power è un po' più bassa rispetto a un profilo con gli stessi parametri che sia di un brand o di un influencer perché? perché il brand awareness che ha una community è molto più basso rispetto al brand awareness che può avere un influencer o un brand consolidato i brand sono i profili brand sono profili che vanno a promuovere un marchio un prodotto o un servizio in maniera specifica e che generalmente hanno un engagement abbastanza basso a seconda poi chiaramente delle strategie però dico a livello medio hanno un engagement abbastanza basso e vengono utilizzati come piattaforma per per promuovere questo brand o per attuare delle strategie che molto spesso sono più semplici sono più simili alle strategie di PR e pubblica relazioni piuttosto che sono piuttosto che alle strategie di social media marketing dei profili brand veramente veramente ben fatti credo che il mio preferito sia il profilo GoPro che ha utilizzato il profilo Instagram effettivamente per dare una vetrina a tutti gli utilizzatori e tutti gli utenti GoPro in quanto tutti i contenuti che posto sono presi dall'hashtag GoPro e girati con appunto le GoPro quella è una strategia fantastica ed è una vetrina utilizzandola in maniera di con una campagna cosiddetta di content marketing in quanto fa vedere agli utenti la qualità effettiva delle foto e dei video fatti con le GoPro fatti da persone assolutamente normali l'ultima categoria che è la categoria un po' più probabilmente conosciuta e la categoria più chiacchierata sicuramente al momento sono gli influencer il profilo influencer innanzitutto per essere ben consolidato deve avere un numero di followers assolutamente maggiore al numero di following gli influencer che hanno più successo hanno anche un numero di following abbastanza basso generalmente non sopra i mille anche se hanno milioni e milioni di followers è un influencer per essere definito tale deve avere un influencing power quindi deve avere la capacità di muovere engagement su altre pagine deve avere la capacità di generare click sui link in bio e deve avere la capacità di aumentare la reach delle storie e mandare dei contenuti virali e generare click e potenzialmente consumatori utenti clienti a qualsiasi prodotto o servizio semplicemente utilizzando la piattaforma gli influencer come detto prima Chiara Ferragni Kylie Jenner Cristiano Ronaldo possono essere di vari tipi e in varie nicchie ma la cosa che accomuna tutti è una brand loyalty da parte di followers veramente alta e dal fatto che con un semplice post come aveva provato per esempio aveva fatto Selena Gomez riescono a far muovere effettivamente le masse da un account all'altro o addirittura come ha fatto Kylie Jenner da una piattaforma all'altra per oggi riguardante l'instagram è tutto spero di essere stato abbastanza chiaro per qualsiasi dubbio per qualsiasi chiarimento mi raccomando commentate sotto questo video per qualsiasi domanda più specifica sapete sempre controllate la programmazione delle live o lasciate un post all'interno del nostro gruppo per oggi è tutto grazie per la visione e stay tuned grazie per la visione